Il lavoro è buono, la cosa è lavorato, allora ti mettono una cosa in più. Tu lo fai così, potranno un contratto, potranno un soldi, ci va assai. Sì, sì, io non ho contattato a niente, mi amore perché erano un contratto. Diciamo dai 30 assi. Cosa vuol dire oggi cercare lavoro in una grande città come Napoli? Il secondo quindi 30 euro, però ci sono le mance. Qui li fanno i contratti o no? No, li fanno i contratti. Abbiamo provato a scoprirlo fingendoci in cerca di lavoro. Buonasera, sento un'informazione, dove per caso hai cercato il personale, la cucina, la cameriere? La cameriere sì, o la mattina dalle 3 alle 5, o dalle 5 alle 8. Se succede la lunga, ti fai... Lo stile quando pagano? E dipende, perché se uno non fa una prova non possiamo... Non so, più o meno, capire. Diciamo dai 30 assi. La città di Napoli negli ultimi anni ha vissuto un enorme boom turistico, ma nonostante il proliferare di attività commerciali, per i lavoratori nulla sembra essere cambiato. Tutta la giornata... Tutta la giornata... Tutta la giornata che intendo? Cioè, dalle... La mattina alle 10... La mattina alle 10... Sì, dalle 16... Sì, dalle 16, sì. La mattina alle 11, la notte dopo si chiude, più o meno. Dipende, asera per cui ci sta? E più o meno un cammino di quanto prende... Dipende, cosa hai fatto? Sì, sì, un anno non puoi fare niente, non muardo, perché l'hanno rindeurato, perché ti cammino. Paghe che vanno dai TV è 5 euro l'ora. Lavoro nero o grigio. Gli orari sono dalle 4 del pomeriggio fino a fine festa, che sia a luna e mezza, a due di notte. La paghe è 60 euro al giorno. Facciamo il contratto, quello là, part time, a chiamata. Il vostro contratto è di 150-200 euro al mese. Ah, cioè nel senso il contratto è di 200 euro, però... Cioè, io non prendo 200 euro. No, lei prende 60 euro al giorno. Ma, diciamo, sulla posizione del contratto non si può fare niente, nel senso che, cioè, così non risultano proprio contributi, così. No, questo è il contratto. Cioè, perché io di fatto lavorerei a tempo pieno, però fate un contratto dove risultano poche ore al mese, sostanzialmente. Sì, a chiamata, facciamo il contratto a chiamata. Quando veniamo ricontattati da uno dei ristoratori a cui avevamo chiesto il lavoro e proviamo a dire che 30 euro sono pochi e abbiamo bisogno di un contratto, riceviamo questa risposta. Mamma mia, abbiamo scherzato, allora, ciao, buon giorno. Scusa, mi dacci? Senti, potete vedere come lavora? Il lavoro è buono, allora, cosa è lavorare? E poi ti metto qualcosa in più. Dopo, così, potranno un contratto, potranno i soldi, c'è un sacco. Grazie.